La Calabria si prepara al Vinitali, la fiera internazionale del vino e dei liquori, che si terrà a Verona dal 14 al 17 aprile, parallelamente al sol la rassegna dedicata all'olio. Saranno oltre 80 le aziende vitivinicole calabresi per la prima volta insieme, in un unico spazio espositivo in costante espansione, pari a circa 1.400 metri quadrati ritagliati nel padiglione 12, con allestimenti inediti e tante novità. Vinitali 2024, la Calabria è presente, ma soprattutto la Calabria è presente in maniera diversa, con uno stand rinnovato, uno stand con spazi più ampi, uno stand che raggrupperà tutte le migliori e maggiori cantine vitivinicole calabresi che nei decenni passati sono state sparse per tutti i padiglioni della manifestazione veronese. Oggi siamo tutti in Calabria, conferma che il movimento vitivinicole calabresi è un movimento non solo in fermento e in crescita, ma soprattutto più unito di un tempo e questo sarà il miglior viatico per altre iniziative importanti, come ad esempio quella del Consorzio Unico, che è il prossimo obiettivo che noi ci proniamo per una Calabria del vino che sta crescendo sempre di più. Il viaggio tra i sapori e gli odori dei vini e degli oli calabresi curato dalla Regione Calabria e dall'Arsac in collaborazione con Consorzi di tutela dei vini e il Consorzio Olio di Calabria IGP si snoderà anche attraverso masterclass, dialoghi in musica e parole di sicuro interesse, quello con il cantautore Dario Brunori. Da segnalare tra i tanti appuntamenti sul versante Vinitali, il confronto a più voci su vino e collaborazioni future tra Vinitali e Calabria. Presenti il presidente Occhiuto, l'assessore Gallo, i vertici di Verona Fiera e il direttore dei musei di Calabria e del Parco archeologico nazionale di Siberia e Crotone, incontro moderato dal giornalista Andrea Radic. Ed ancora il confronto al quale è atteso il maestro orafo Gerardo Sacco e l'incontro promosso da FIVI Calabria tra vignaioli e istituzioni regionali per discutere di disegno di legge che prevede il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Significativo poi il dato relativo all'evento Gemello del Sol, nell'ambito del quale all'interno del padiglione C2A troveranno ospitalità 16 aziende calabresi, protagoniste esse pure di una fitta scaletta di degustazioni, incontri e lezioni nel solco di una storia che affonda le sue radici nelle notri e nella magna Grecia, spirito di una rinascita sostenuta da una passione in fermento. Da non perdere poi i dibattiti sul ruolo dell'olio extravergine d'oliva nella lotta ai tumori, il 14 aprile alle ore 15, con il giornalista Claudio Brachino e Massimo Magliocchi, presidente del consorzio tutela Olio di Calabria IGP, Francesco Schitulli, presidente della Lilt, Fulvia Caligiuri, commissario Arsac Gianluca Gallo, assessore regionale all'agricoltura e la presentazione martedì 16 aprile alle ore 11 del piano olivicolo Calabria a cura del CREA.